In territorio russo le parole Roman Abramovich sono letteralmente bandite. L'uomo non è nominabile, è letteralmente innominabile. Il suo nome infatti non potrà essere citato dai media russi, dai media statari proprio di questo territorio così grande, la Russia, nella copertura dei negoziati di pace che ci saranno proprio in territorio ucraino. L'ordine arriverebbe a pochi giorni dalle notizie che, vi ricordo, vedrebbero coinvolto l'origarca proprietario del Chelsea di 55 anni d'età per un sospetto avvelenamento dopo la partecipazione ai colloqui di pace tra la Russia e l'Ucraina che ci sono stati già il 3 di marzo 2022. Dunque, Roman Abramovich è bandito, il suo nome e cognome è proprio in Russia. I media non possono menzionare neanche una parola di Roman Abramovich. Né il nome, quindi Roman, né il cognome Abramovich possono essere citati, possono essere palesati proprio nei media. Vi ringrazio Russia, ovviamente. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Iscrivetevi, commentate, da Leandro, narratore italiano è tutto. Ciao a tutti.